Papa Francesco è il corifeo della pace, della misericordia. Monsignor Orlando Antonini ha le idee molto chiare sulla visita di Papa Francesco il prossimo 28 agosto all'Aquila per la perdonanza celestiniana. Soprattutto in questo momento della guerra in Ucraina, il messaggio di Celestino V, quindi l'avvenuto del Papa che è il corifeo della misericordia, della riconciliazione, della pace, coincide esattamente con il messaggio di Celestino. Proprio in questo momento è molto importante questo, per tutto il mondo posso dire. La pavimentazione della tribuna realizzata davanti alla Porta Santa della Basilica di Collemaggio all'Aquila sarà pronta entro martedì prossimo. I lavori realizzati per preparare nel miglior modo possibile la visita di Papa Francesco hanno portato alla luce reperti di straordinaria importanza. Sì, abbiamo avuto la sorpresa del ritrovamento di questo pezzo di muro medievale, che non è altro che il basamento di un'edicola sacra, di una immagine, non sappiamo quale immagine, però la cui incorniciatura rinascimentale è ancora esistente. L'edicola fu smontata nel 1912 perché si costruì questo muro di cinta del nosocomio e l'edicola stava proprio nel tracciato di questo muro. La smontarono e in un primo tempo fu rimontata all'allora Museo Civico, che sta nel Palazzo dei Raccomandati. E poi non si sa quando, ancora non lo scopre, in quale occasione, forse in occasione dei lavori di restauro fatti nel 69-70 dal superintendente Moretti, questa incorniciatura rinascimentale fu rimontata sull'attare laterale della chiesa di Santa Maria del Soccorso. Si direva che era di fronte alla Porta Santa, però il dove non... e l'abbiamo riscoperto.